Svelato il mistero della moria di pesci nel lago di Averno, che tanta preoccupazione aveva suscitato su un possibile allarme, inquinamento. L'ARPAC ha effettuato rilievi e i dati che ci ha fornito in anteprima rivelano una realtà diversa. Ettore De Lorenzo. Ci troviamo al lago d'Averno, un lago interessato nelle ultime settimane a un fenomeno particolare che ha destato anche molto allarme. Ovvero la moria di centinaia di pesci, in particolare di cefali, non si è capito all'inizio il motivo di questa morte. Ma adesso, grazie alle analisi condotte dall'ARPAC, si è capito che soprattutto si tratta di un fenomeno naturale, dunque non imputabile all'inquinamento. Siamo con Nicola Adamo, che è il direttore dell'ARPAC di Napoli. Con Adamo vogliamo proprio chiarire qual è la ragione di queste morti. In realtà questi cefali sono morti per anossia, paradossalmente sono morti per mancanza di ossigeno. Mancanza di ossigeno che è dovuta a due tipi di fenomeni. Alla presenza di emanazioni gassose di idrogeno solforato. Non dimentichiamo che siamo a meno di due chilometri dalla solfatara di Pozzuoli, un territorio vulcanico. In questo momento abbiamo la presenza anche delle alghe verdi, delle cianofile, che sono alghe che vanno ulteriormente a ridurre il patrimonio di ossigeno delle acque e soprattutto creano, crescendo in grosse quantità, dei meccanismi di putrefrazione che producono ulteriore idrogeno solforato che le rende meno vivibili per le specie di grossa taglia. Insomma, nonostante il raccapriccio di vedere tanti pesci galleggiare a pelo d'acqua, è confortante sapere che la loro morte non dipende da fattori di inquinamento. L'assessore all'ambiente Giovanni Romano sottolinea la tempestività dell'intervento da parte della regione che ha immediatamente attivato l'ARPAC per verificare se si fosse in presenza di illeciti come sversamenti illegali nel lago. Le analisi, conclude l'assessore, hanno invece evidenziato che la questione è legata unicamente all'attività vulcanica e alle quantità di zolfo presenti nell'acqua. Grazie. 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 Grazie.